il figlio di settimana prossima la porta è chiusa sotto la lapide padre nostro che sei nei cieli e santificato il tuo nome che il tuo regno sia fatta la tua volontà come in cielo e così in terra dacci oggi il nostro pane quotidiano rimettiamo noi i nostri liquidi come anche noi rimettiamo il nostro figlio e non abbandonarci la pensazione ma non abbiamo l'eterno riposo donna loro signore due parole grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti